I punti sono tre. Una scuola che abbia una vera autonomia, perché l'autonomia serve a personalizzare l'insegnamento negli istituti scolastici, che sono diversi nei singoli territori, ma hanno anche giustamente una necessità, soprattutto nel XXI secolo, di adeguare le competenze degli studenti. La valutazione, perché non c'è merito senza valutazione. E la formazione costante di coloro che sono il centro della scuola insieme agli studenti, cioè gli insegnanti. Queste tre parole badate, nell'attuale sistema scolastico italiano, ci sono o sulla carta l'autonomia, legge Berlinguer del 99, governo di centro-sinistra, che però non è stata attuata, perché per fare l'autonomia, lo dico anche chi necessariamente, non tutti qui immagino, si occupano di istruzioni in maniera tecnica, significa avere gli insegnanti che servono, significa poter fare un progetto che segue delle linee ordinamentali nazionali, ovviamente al classico si studierà greco, in tutte le scuole si studierà matematica e così via dicendo, ma significa anche poter avere dei curriculum flessibili su un modello educativo che si confronta con una società in cui le conoscenze tecnicamente si aggiornano, non più come nello scorso secolo, ogni cinque anni per le competenze scientifiche, ogni dieci per quelle umanistiche, ma molto più rapidamente. La formazione, se qualcuno ha la curiosità di andare a vedere il sito del mio ministero, non esiste come voce che abbia un budget assegnato e che sia strutturale, obbligatoria e permanente. Ora io mi chiedo e vi chiedo, chi fa l'insegnante e che quindi ha questa missione nobile fondamentale di trasmettere conoscenza alle nuove generazioni? Ha il dovere o ha il diritto di poterla aggiornare costantemente? Ha il diritto a dovere. Ecco, io dico che è un diritto, però poi diventa un dovere. Allora un sistema scolastico che nel ventunesimo secolo non si pone questo principale compito, è un sistema scolastico che quantomeno resta dov'è, non dico che arretra, ma quantomeno resta dov'è e quindi forse arretra rapidamente. E la valutazione c'è poco da dire, insomma, è forse, posso dirlo con molta franchezza, è forse la cosa che si teme di più, non perché gli insegnanti, è già successo, io faccio il professore universitario, come lei ha ricordato, di mestiere, l'università in Italia, ha affrontato questo scalino, pur con mille complessità, dieci anni fa. E anche lì, devo dire, il dibattito all'inizio era stato abbastanza acceso, con magari una maggiore attitudine, ricercatori, studiosi che insegnano, sono praticamente i professori universitari, a aprirsi a questo processo. Nella scuola è un cambiamento forte, radicale, che si badi, non vuol dire darle pagelle ai professori buoni e ai professori cattivi, significa avere una consapevolezza del lavoro che si fa, dei risultati che questo lavoro ha sulla formazione degli studenti e anche una premialità assegnata in termini di fondi, di risorse e di miglioramento progressivo del percorso.